Le Nazioni Unite alzano la pressione sugli Emirati Arabi Uniti chiedendo conto delle condizioni della principessa Latifa. La figlia dello sceicco Mohamed Mir Rashid al-Maktoum, primo ministro degli Emirati, racconta di essere prigioniera in casa da tre anni dopo aver cercato di lasciare il paese nel 2018. Mi tengono in ostaggio in casa con le finestre sbarrate guardate a vista dalla polizia, non posso nemmeno uscire a prendere una boccata d'aria, ha raccontato in un drammatico video diffuso dalla campagna Free Latifa. Ai politici, i leader mondiali, le celebrità e i cosiddetti influencer che vanno a Dubai per promuovere il paese, chiediamo di aprire gli occhi per capire qual è la realtà che li circonda. A poche centinaia di metri dalle spiagge di Dubai c'è una persona tenuta in ostaggio. La corte di Dubai respinge le accuse e ripete che Latifa è al sicuro con la sua famiglia, ma le richieste ai governi che hanno relazioni floride con una delle case reali più ricche al mondo aumentano affinché venga a galla la verità. Tra questi c'è il Regno Unito. Affrontiamo costantemente il tema dei diritti umani con i nostri partner. Non abbiamo una posizione specifica su questo caso, ma certamente siamo preoccupati. L'ONU afferma che chiederà presto conto delle condizioni della principessa agli Emirati. Il primo ministro ha dichiarato di aver sempre agito nell'interesse della figlia.